Camucia è protagonista di un doppio appuntamento domenica 14 maggio. Alla tradizionale fiera, infatti, quest'anno si aggiunge anche la giornata del volontariato. Oltre 50 gli espositori che prenderanno parte a Camucia in fiera, dislocati tra piazza Sergardi, dove sarà possibile trovare i prodotti dell'artigianato artistico e le creazioni florovivaistiche e via Laurentana, via 25 Aprile e via Sandrelli, dove ci sarà spazio per l'abbigliamento, le calzature, casalinghi, dolci, frutta e verdura, ma anche molte altre sorprese. È soprattutto un modo diverso di fare commercio ambulante, quindi si rivolge a un pubblico diverso da quello normale dei mercati, con articoli che in qualche maniera suscitano l'interesse e la loro attenzione. In via Regina Margherita invece prenderà vita la giornata del volontariato. Vede la partecipazione di tutte le associazioni di volontariato, che sono molto numerose, nel nostro territorio, che quindi esporranno i loro banchini, avranno la possibilità di far vedere i tanti progetti che durante l'anno realizzano nel nostro territorio. Vengono coinvolte anche le scuole quest'anno, quindi ci sarà la possibilità anche di andare direttamente alla scuola primaria e vedere il planetario. La festa del volontariato però si dislocherà non soltanto nella giornata di domenica, ma anche nella giornata del sabato, con degli appuntamenti di carattere sportivo alla piscina comunale. Una domenica di festa dunque, ma anche un'ottima occasione per le attività commerciali di Camucia. Dovrebbe essere una giornata, diciamo così, splendida nel fatto dell'afflusso di persone via di seguito, che sicuro saranno numerose.